Ciao a tutte e ragazzi e ragate benvenuti in questo nuovo video allora oggi avrò la mia vendetta ovvero sto facendo un bellissimo scherzo d'alice allora questa è la mia vendetta appunto se potete che siamo vestiti nello stesso modo di ieri è perchè appunto ho dormito di nuovo con me e quindi vabbè mi sono organizzata appunto questo scherzo che l'ho visto da un canale però non mi ricordo come si chiama però grazie per il consiglio e quindi vabbè appunto abbiamo dormito di nuovo insieme perchè noi dobbiamo dormire non lo sappiamo perchè le nostre mamme ci hanno detto che possiamo dormire 5 giorni insieme quindi dormiamo 5 giorni insieme forse è il secondo giorno che dormiamo insieme quindi domani sicuramente Alice mi farà un'altra vendetta e poi ieri farà natta quarto giorno, quinto giorno faremo un vlog quindi iniziamo subito e vi faccio vedere lo scherzo allora lo scherzo è questo intanto dice sta sopra che si sta vestendo però quello ci mette pochissime quindi ci vediamo allora dovrà incempare su queste cose qui dove stanno i piedi appunto qui e qui sopra la testa però più boom e qui i piedi quindi adesso nasconderò la telecamera io ci metto un'ora per nascondere una telecamera perchè non so dove metterla ma poi alla fine ho trovato dove mettermela però girava in continuazione non gira, gira, cazzo, cazzo, cazzo in bocchi e quindi va bene alla fine alleluia l'ho trovata non si gira, non si girava, cazzo, cazzo in bocchi vabbò, sì, sì sì, va bene quindi dovetevi la caduta di Alicia aia quindi adesso si impara vabbè ragazze adesso vi faremo vedere un altro scherzo no ah vi farò vedere lo scherzo che mi ha fatto lei a me quindi godetevelo